Benvenuti tutti a un nuovo appuntamento di Contè al Cinema. La solitudine è una piaga per molti, uomini e donne, dei nostri tempi. E alla solitudine si cerca di porre rimedio in mille modi, se lo si vuole. E il modo che ha trovato Brian, il protagonista del film che andiamo a proiettare qui al Centro Asteria, è un modo davvero originale. Perché originale è la persona. Un inventore capace di prendere poco, un po' alla MacGyver, e trasformarlo in strumenti per lo più inutili o superflui, ma davvero dal grande ingegno creativo e ingegneristico. E così fa per crearsi un amico. Charles, partendo da una lavatrice e da poco altro di più, crea un uomo, un amico, una persona con cui poter dialogare. Ma c'è una cosa che non si attende. Che anche Charles abbia dei sogni, forse addirittura più grande dei suoi, che vive in un piccolo paese, un piccolo villaggio, con piccoli problemi che però sembrano grandi. Un film surreale, divertente, ma anche decisamente amaro. Brian e Charles, una produzione indipendente, presentato con successo al Sundance Film Festival, dove è stato acclamato dal pubblico, e che è arrivato alla fine dell'estate anche nelle nostre sale. L'idea di Brian e Charles parte da uno spettacolo teatrale dei due stessi attori protagonisti che troverete in sala, in scena, e che hanno trasformato questo loro spettacolo in un cortometraggio che poi è divenuto il film che andrete a vedere. Un film che appunto parla di solitudine e di amicizia, parla di bullismo e di riscatto, parla di amore, ma soprattutto parla della necessità di sognare. E allora buona visione con questo piccolo ma delizioso film Brian e Charles di Jim Archer.